15 racconti scritti da giovani della provincia di Roma sono diventati un libro, racconti di provincia e il nome del volume, una raccolta di esperienze e storie viste attraverso lo sguardo dei ragazzi che vivono tutti i giorni in loro territorio. È il risultato di un concorso letterario promosso dalla provincia di Roma che ha l'obiettivo di scoprire e comprendere le nuove problematiche dei giovani, dando loro la possibilità di esprimersi grazie alla scrittura. Un modo per valorizzare la creatività e conoscere meglio quello che succede nel nostro territorio. Da un lato c'è una valorizzazione della creatività dei giovani sotto i 35 anni, dall'altro c'è l'idea che anche questi luoghi che noi attraversiamo magari velocemente, attraverso il loro sguardo possono essere elaborati. Io credo che uno dei problemi che noi abbiamo è proprio questo, è un paese bloccato perché non valorizza lo sguardo, la freschezza, l'impegno, la serietà, la capacità di chi è più giovane.